Ciao a tutti amici, bentornati o benvenuti sul mio canale. Nel caso foste nuovi questo è un canale che si occupa di fotografia, videomaking, design e produzione audiovisiva in generale. Io sono Cesare e oggi vi parlerò di com'è possibile realizzare delle belle foto con lo sfondo sfocato anche utilizzando semplicemente il nostro telefono cellulare. Prima di incominciare io ti consiglio di iscriverti a questo canale perché se l'hai aperto vuol dire che questi temi possono starti a cuore e quindi per non perderti i prossimi aggiornamenti sempre sulla falsariga di quello che vedrai oggi ti consiglio di cliccare subito sul bottone iscriviti e lascia anche un like a questo video così mi aiuti un pochettino con l'algoritmo di youtube. Oggi parleremo di messa a fuoco e in particolare di sfocatura dello sfondo con il nostro buon amico smartphone. Sì perché nel momento in cui noi stiamo cercando di realizzare un buon ritratto, isolare il nostro soggetto, una cosa che ci può venire molto comoda è quella di cercare di avere lo sfondo quanto più sfocato possibile. Ora questo può risultare più semplice se stiamo utilizzando un'attrezzatura professionale come una videocamera o una fotocamera soprattutto se abbiamo montato una lente che è giusta per quello scopo può risultare molto più ostico se stiamo utilizzando un cellulare e questo dipende soprattutto dalle dimensioni del sensore. Infatti dovete sapere che le fotocamere che sono più grosse di un cellulare hanno la caratteristica di incorporare un sensore che è molto più grande di quello di un telefono cellulare. Stiamo parlando di un sensore di queste dimensioni sulle fotocamere contro un sensore di queste dimensioni su un cellulare quindi la differenza è veramente tanta. Al di là dell'impatto che questo può avere semplicemente sulla qualità della nostra immagine ha un impatto anche su quello che è l'angolo di campo e di conseguenza sulla distanza che dobbiamo tenere per avere il nostro soggetto correttamente composto all'interno della nostra inquadratura. Di conseguenza anche la profondità di campo ne verrà influenzata. La profondità di campo è la porzione di immagine che è a fuoco quindi se noi vogliamo avere tutto a fuoco avremo un'ampia profondità di campo se vogliamo sfocare lo sfondo avremo una profondità di campo più ristretta. Ora vi faccio vedere noi oggi lavoreremo con il mio piccolo assistente lui è Kong, Donkey Kong, che ci aiuterà a realizzare le riprese in modo tale che io possa farvi vedere che cosa cambia nel momento in cui noi andiamo a cercare di sfocare il nostro sfondo. Come potete vedere in queste immagini nel momento in cui noi utilizziamo la fotocamera standard del nostro telefono e andiamo a comporre la nostra inquadratura abbiamo il nostro soggetto che sta davanti che è fondamentalmente sempre a fuoco. Il telefono mette a fuoco automaticamente le cose più vicine e comunque riconosce le scene quindi mette a fuoco quasi sempre nella maniera migliore. Lo sfondo rimane un pochino sfocato però non completamente. Ora se noi vogliamo sfocarlo di più questo sfondo possiamo agire in modi diversi. La cosa migliore che possiamo fare se il nostro telefono ha più di una camera in particolare io faccio riferimento allo standard che è l'iPhone. Questo è un iPhone 11 e come potete vedere ha già più di una camera. Quasi tutti i cellulari moderni hanno più di una camera quindi se anche il vostro telefono ha più di un obiettivo potete cambiare obiettivo e più lungo è l'obiettivo che state utilizzando ovvero più zoom avete e più lo sfocato tenderà a essere accentuato. Infatti vedete che nel momento in cui io passo al mio obiettivo più lungo al mio obiettivo più telescopico e rifaccio la stessa inquadratura più o meno la stessa inquadratura vedete che lo sfondo tende a essere maggiormente sfocato. Ovviamente notate anche come lo sfondo sia sfocato laddove lo sfondo è lontano dal mio soggetto mentre tende a tornare a fuoco quando è vicino al mio soggetto. Quindi il muro di mattoni dietro al mio assistente è maggiormente a fuoco quando è vicino e via via lo sfocato diventa più accentuato man mano che ci allontaniamo quindi è più a fuoco a sinistra e diventa più sfocato andando verso la destra del frame. Questa è una cosa normale perché il punto di messa a fuoco come dicevo in un altro video che vi lascio in card e vi consiglio di andarvi a vedere come dicevo appunto in un altro video in cui parlavo di messa a fuoco la messa a fuoco è un punto che si colloca nello spazio per cui due soggetti vicini nello spazio avranno il punto di messa a fuoco vicino a entrambi mentre due punti lontani nello spazio avranno il punto di messa a fuoco che si collocherà sul soggetto e sarà quindi lontano dallo sfondo quindi lo sfondo risulterà maggiormente sfocato. Tutto questo lo spiego molto meglio nell'altro video per cui andatevelo a recuperare. Ora però parliamo della grande invenzione credo di iPhone credo di Apple credo che siano stati loro i primi a fare questa cosa però non ne sono sicuro quindi se qualcuno conosce la verità smentitemi pure ne parliamo dopo nei commenti. Io ho visto questa feature per la prima volta su un iPhone in particolare sull'iPhone XS che è stato il primo iPhone che io ho posseduto da allora sono passato definitivamente a Apple anche per quanto riguarda i telefoni cellulari e quindi adesso ho due iPhone perché uno dell'ufficio e uno mio personale. Su entrambi c'è questa funzione che poi ho visto essere stata copiata a cascata su tutti i competitor però secondo me l'hanno inventata loro ed è la modalità ritratto. Nel momento in cui noi andiamo a selezionare la modalità ritratto sul nostro telefono utilizziamo una lente che non è la più lunga che abbiamo a disposizione è una via di mezzo però è una modalità che posizionando il soggetto a una determinata distanza infatti è molto capriccioso vuole che il soggetto sia esattamente in un rage di distanza che piace a lui se no non funziona però posizionando il soggetto a una certa distanza utilizzando una tecnologia che si chiama mappa della profondità il telefono sostanzialmente esegue una scansione e quindi crea una fotografia che è quella che noi vediamo e poi crea questa mappa della profondità che è fondamentalmente un foglio di istruzioni che gli dice quali parti erano più vicine e quali parti erano più lontane. In base alla distanza effettua una sfocatura che può essere anche postuma che è sicuramente maggiore di quella che possiamo ottenere semplicemente con le fotocamere normali del nostro cellulare quindi noi vediamo che anche in post anche dopo che abbiamo scattato la foto possiamo andare a editare la nostra immagine e vedete qui in alto che c'è questa questa funzionalità questo f che sta per f stop quindi sostanzialmente va a simulare quella che è l'apertura di un obiettivo vero di un obiettivo fotografico con questo cursore noi possiamo aumentare o diminuire lo sfocato sul nostro sfondo questo è molto interessante perché è una cosa che nativamente sul cellulare non si può fare infatti questo è digitale viene fatto appunto attraverso la mappa della profondità che fondamentalmente è una maschera che dice al nostro processore quali parti devono rimanere a fuoco e quali parti invece devono essere sfocate e con questo cursore noi possiamo appunto decidere la quantità di sfocato che desideriamo la nostra fotografia potrebbe essere finita in questo modo noi possiamo dirgli ok e vengono consolidate le modifiche vedete che non è perfetta nel senso che alcune parti la mappa della profondità le ha cannate alcune parti si vanno a confondere e quindi l'effetto può non essere sempre bellissimo ovviamente il mio assistente kong è piccolino su una persona questa cosa funziona meglio perché una persona è più grande quindi l'effetto dovrebbe risultare migliore è possibile comunque incorrere in degli errori soprattutto se ci sono capelli ricci con uno sfondo complicato a volte la mappa della profondità non viene esattamente come dovrebbe però piuttosto che niente riusciamo comunque a ottenere un'immagine con un livello di sfocato assolutamente accettabile adesso come vi ho promesso andiamo a vedere il confronto tra una fotografia scattata con l'iphone e una fotografia scattata con una fotocamera vera perché quello che ci interessa è imparare come si sfoca lo sfondo con un cellulare però mi preme anche farvi capire come mai nel momento in cui viene un fotografo nella fattispecie potrei essere io ma anche un mio collega come mai quando viene un fotografo tendenzialmente le immagini sono migliori o quantomeno sono migliori se abbiamo lavorato bene con il fotografo perché se abbiamo messo lì il fotografo e non gli abbiamo dato istruzioni e gli abbiamo semplicemente detto fai tu poi ci sta che le immagini non ci piacciono perché non ci siamo confrontati il fotografo è bravo a fare le foto ma non è bravo a conoscere i gusti del cliente quindi bisogna comunicarglieli andiamo a vedere questa comparazione vi faccio vedere questa che è la nostra immagine finale realizzata con il telefono e questa invece che è la nostra foto realizzata con una fotocamera vera in particolare stavo utilizzando non è neanche il mio top di gamma il mio muletto questo sto utilizzando la canon eos 700 di con il 50 mm 1.4 che quindi diventa un 80 mm e quindi perde anche un pochettino di sfocato perché comunque dobbiamo allontanarci dal soggetto a causa del sensore aps c però vedete che la differenza è abissale abbiamo una differenza sia a livello di definizione sia a differenza di qualità proprio dello sfocato quindi nel momento in cui noi siamo in giro con il nostro telefono cellulare vogliamo fare una foto con lo sfocato lo facciamo perché siamo in quella situazione e non possiamo fare altrimenti se però vogliamo realizzare delle fotografie fatte bene con uno sfocato degno di questo nome con uno sfocato bello è molto meglio se utilizziamo una macchina fotografica vera con un obiettivo adatto a sfocare lo sfondo se ci rivolgiamo a un professionista sicuramente avrà nel suo parco lenti qualcosa di adatto a questa occasione quindi il mio consiglio è uscite col vostro telefono scattate provate la modalità portrait divertitevi però per le cose serie è sempre meglio rivolgersi a un professionista o utilizzare una fotocamera perché non è detto che una fotocamera non impariate a usarla anche voi vi linko in card la playlist dove potete andare a vedere come si realizzano fotografie anche abbastanza complicate in diversi ambiti in maniera tale che riusciate a padroneggiare il mezzo fotografico al di là del vostro telefono bene amici spero che abbiate trovato questo video interessante a questo punto non mi resta che dirvi lasciatemi un commento per farmi sapere qual è la vostra esperienza a riguardo utilizzate il telefono utilizzate la modalità portrait per scattare le vostre foto oppure siete come me dei fanatici e preferite la macchina fotografica posto che poi anch'io mi trovo in giro senza la mia fotocamera e quindi anch'io a volte uso il telefono per scattare delle foto fatemi sapere qual è la vostra esperienza e io vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.